Il territorio è vasto, le forze di polizia fanno l'impossibile, però anche numericamente lo vediamo quotidianamente, non riescono a coprire tutto il territorio. Noi abbiamo le licenze di polizia che ci consentono di fare questo e in più possiamo avere di supporto a noi o di supporto alle forze di polizia anche le associazioni di volontariato. E quindi poter gestire sempre in quelli che sono i parametri legali le situazioni su strada. Gli abbiamo visti in azione nelle principali manifestazioni a retine, dai concerti agli eventi sportivi, dalle conferenze alle manifestazioni politiche. Si tratta dei ragazzi di ombra sicurezza. Diciamo che ho voluto impostare un po' tutta la filiera che abbiamo di addetti al controllo, molto bravi, professionali, in maniera diversa. Perché oggi siamo nel 2022 e non possiamo pensare di lavorare come avveniva nel 2000. Quindi un adeguamento. L'importante è prevenire le situazioni. Anche il deflusso e l'afflusso di persone in determinati eventi è importantissimo perché cade una persona e avviene il finimondo. Massima attenzione anche verso gli eventi rivolti al mondo giovanile per cercare di contenere ogni tipo di eccesso. Il personale è tutto professionalmente all'altezza di poter capire se sta per avvenire qualcosa, riuscire a localizzare e individuare i soggetti un po' più facinorosi e prevenire certe forme di violenza che possono scatenarsi. Non con violenza ovviamente. In futuro l'Agenzia Ombra sta pensando anche a un corso rivolto alle donne. È importante la protezione di se stessi, ma la protezione non intesa come difesa personale da palestra o quant'altro. Perché uno dovrebbe già avere dimestichezza con le arti marziali e quant'altro, ma il poter prevenire le situazioni e riuscire a difendersi in maniera semplice, impensabile tante volte, con strumenti e oggetti che abbiamo a portata di mano per poter avere quei due o tre secondi di tempo per poter scappare e quindi mettersi in salvo.